buona a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono gabrie io birillo oggi andremo a farvi vedere il nostro nuovo liquido vai birillo esponicelo allora positano della vitruviano juice un liquido a pan di spagna crema di limoncino e glassa di agrumi una bomba a nicotina zero ora andiamo a fare una prova di svapo la boccetta sembra un po quasi un medicinale ragazzi sembra medicinale però il sapore del liquido andremo a scoprire te lo vai a buttare dentro la boccetta potrò dirvi perché apri la boccetta vai da 30 ml andrò a provare con il ghani v2 e il druga e io invece con il ghani e il gunda 1 e mezzo c'è venuto a fintare com'è gabrie come ti sembra questo liquido e fa sapore sento il limoncino in pieno il limoncino il limoncino un po di pan di spagna non ce la senti io sento una botta di limoncino limoncino il limoncino sai cosa sta sovrida alla merendina alla Kinder Paradiso Kinder Paradiso con un po da grumi quella normale al limoncino come potrei dare? un sette e mezzo si solamente è buono c'è a fare smapparlo tutto il giorno no potrebbe smagare però però per farci due tira poi le tirate così per cambiare anche un po si risciacola la bocca un po di limoncino crema la crema di limoncino agrumi e pan di spagna ah non è male molto fedele ai liquidi che descrivete assolutamente allora da qui è tutto se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo una pagina su Facebook e su Instagram vi aspettiamo un bacio ciao 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 ciao